Perché la live di ieri non si vedeva? Eh non lo so, però l'ho rimessa che si vedeva. Non lo so perché non si vedeva, è un mistero. Ti piace Cobra Kai? Non lo so cos'è, cioè l'ho sentito ma non l'ho visto. Farai di nuovo dei sì, ma mi piacerebbe, ma che bei tempi, ma quanti mi seguono da quei tempi ormai? Quasi nessuno. Lion sono sotto attacchi di rabbia e non so come liberarmene. Allora un buon modo è fare attività fisica oppure andare in palestra, perché a volte la vita è stressante e a volte ci sono cose che ti fanno arrabbiare, e quindi ti rimane quel fastidio che poi se non riesci a sfogare li evita sempre di più, diventa anche pericoloso. Bisogna fare secondo me attività fisica, ma può anche essere qualcosa che ti fa rilassare, però l'attività di sfogarsi fisicamente fa bene. Quindi ti consiglio questo. Sempre qualcuno che è positivo, mi dispiace, ma vi auguro di guarire in frettissima. Un consiglio vorrei dire ai miei genitori che sono lesbica, ma non so, e ho paura della loro reazione. Ma guarda, secondo me lo devi fare in un modo, secondo me è ragionato. Nel senso non è che glielo devi buttare lì a cavolo. Cerca perché ne va della tua felicità. Quindi cerca magari di sondare prima il territorio, di capire come dirglielo, a chi dirlo prima magari, perché può essere uno dei due genitori, magari poi ci auguriamo tutti che i tuoi genitori siano comprensivi come dovrebbero essere. Però non è detto. Quindi magari cerca di capire quale dei due può capirti meglio, però sì, trova il modo, ma diglielo. Non è giusto vivere nascosti. Bisogna dire la verità. Perché mi chiedete qual è il mio VGF preferito? Non faccio preferenze. Cioè, che brutto sarebbe. Quale se... Ho fatto... Ho fatto oggi i miei primi TikTok. Bra! Diventerai il nuovo Kaby Lame. Bravo! TikTok è pazzo, eh ragazzi. Cioè io ho fatto l'altro giorno quel video del bebito fiu fiu, no? Dove letteralmente non faccio nulla se non boccheggiare la canzone Eres mi bebè, mi bebito fiu fiu. E un milione e mezzo di visualizzazioni. Così. Ma perché TikTok è rotto. Per carità, eh. Fa bene approfittarne. Non si guadagna dalle visualizzazioni su TikTok, eh. Però comunque è un ottimo modo per farsi conoscere. Cioè in realtà c'è tipo il creator found, ma non lo usa nessuno. Perché da quello che so io è proprio una roba di pochissimi centesimi ogni miliardo di visualizzazioni. Una fesseria. Io non credo di averlo neanche attivo, sinceramente. Ma non importa. Perché TikTok è proprio facile. Cioè tu prendi, fai un registro di due cavolate, vai in giro. Diventa virale magari. È bellissimo. È facile fare TikTok. È proprio bello. Magari anche YouTube fosse così, eh. Ma su YouTube è diverso. Perché su TikTok tu scrolli, no? Anche noi che lo usiamo, lo sappiamo bene. Scrolli, scrolli. E quello che vedi non è che lo hai scelto di vedere, no? Tu scrolli. Quindi quello che ti capita, ti capita. Invece su YouTube vale molto di più una visualizzazione. Perché la persona che te la dà ha scelto di aprire quel video e di guardarlo. Lo è andata a cercare a volte. O comunque lo ha visto, ma ha dovuto decidere di cliccarlo. È sembra una fesseria, ma in realtà... Eh, cavolo. È la volontà della persona, eh. Quella è una roba diversa. Troppo ossessiva. Cosa mi consigli? Ossessiva in che senso? Che ti sta troppo addosso? Magari. Che ti insiste troppo su certe cose? E, non lo so, considerando che tu ci devi vivere insieme, ti sconsiglio di litigarci, perché non serve a niente. Però, magari prendere un po' la questione con razionalità, cercare di spiegarle che a te non piace e che pensi che comunque con un approccio diverso tu riusciresti a vivere meglio o anche, perché no, ad essere più performante nella tua vita, potresti fare un discorso del genere con calma, eh, senza aggredirla, senza insultarla soprattutto, senza essere irrispettoso o irrispettosa. Però, fai valere la tua opinione. Ricordatevi sempre che i vostri genitori possono sbagliare e probabilmente sbagliano, perché sbagliamo tutti, no? Chiunque sbaglia. Quindi anche loro avranno sbagliato, per forza di cose. Però fanno le cose per il vostro bene. Non è che vi vogliono male, di solito. C'è qualcuno che ha sfortuna di avere un genitore che non gli vuole bene, eh. E questo succede nel mondo, non diciamoci bugie. Però la maggior parte di noi ha avuto la fortuna di avere i genitori che vogliono me. Non vuol dire che non abbiano mai sbagliato con noi. Quindi ci si può provare a ragionare. Cercare di fargli capire che una cosa magari non ci sta facendo star bene. Perché no? Fatelo. Sempre con rispetto, però. I miei genitori mi insultano e mia sorella mi prende in giro. Cosa gli posso dire? Gli puoi dire che in questo modo ti stanno facendo creare un brutto rapporto con tua sorella. perché il fatto che ti prendano in giro, comunque che ti dicano delle brutte parole, tua sorella ci fa leva e quindi a te ti mette in difficoltà. Gli puoi chiedere di smetterla. Sempre con gentilezza, però anche con fermezza. Dovete sapere ciò che volete, dovete in qualche modo anche imporlo. Perché no? Perché se è una cosa che riguarda solo voi, e il modo in cui qualcuno si rivolge a voi riguarda solo voi, voi avete l'autorità di imporre la vostra volontà. Poi, uno vi può rispondere, vivi a casa mia, le regole sono mie. Quando andrai a casa a vivere da solo, potrai fare quello che vuoi. Questo è un ragionamento molto frequente nella mente dei genitori. Ma, 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 perché? No, vabbè, però è bruttino, bruttino. Ce l'hai ancora per oggi, però non so perché. Cosa hai fatto oggi? Aspetta. Ah, sì! Lui, portasfiga, infatti, strecato, adesso, indossa un nuovo sfondo del desktop che dice ciò che ha fatto. È terribile, è una giusta punizione, però. Allora, posso mostrarlo, secondo me? Gliel'ho fatto io. Gliel'ho fatto io, allora fammelo leggere. Ok. Vabbè, c'è una parte un po' volgarotta, ma non importa. Farò vedere il tuo sfondo del desktop, fatto da me, ragazzi, eh, guardate qui. È un po' cercante, ma è giusto. Allora, allora, vedete? C'è scritto, non devo dire che è presto, mentre registriamo, o che sta andando tutto bene. Punti escalativi. Perché? Porto sfiga, perché lui dice così, e poi porta sfiga, va tutto male. E faccio schifo, capito? Perché porta sfiga, quindi fa schifo. Poi c'è scritto anche che ha il pisello picco. Ma questo è un'espressione in più. Però c'è un gattino che migliora tutto. Il stregatto ha chiesto che ci fosse anche un gatto, e quindi gli ho aggiunto anche questo gatto per rendere il tutto un po' più, eh? Un po' più bello, ecco. Non devo più gufare le cose strane. No, non devo gufare. Cioè, ragazzi, letteralmente, allora, cos'è successo? Adesso il video lo vedrete settimana prossima. Stavamo registrando Minecraft. Era prestissimo, avevamo finito tutti gli altri video, velocissimo. Arriviamo su Minecraft e lui fa Ehm, è prestissimo. Ehm, è tutto bene. E allora, cosa succede? Minecraft esplode. Esplode tutto, letteralmente. Un'esplosione dopo l'altra. Un disastro. E ha rotto tutto. Ma noi lo sapevamo, perché non è la prima volta che lo fa. L'aveva già fatto ed era stato sgridato e noi gli avevamo detto Stai zitto, non lo dire. Non ce l'ho del malaugurio. Non dire che va tutto bene, che porti sfiga. E lui porta sfiga. Sai, sai, come tu sei? C'hai tipo un vestito nero e ti appollai sulle sedie degli altri, tipo ti metti dietro così, tenendoti sulla... Ma cosa? Che cosa faccio? Sulla spalliera così, tutto. Ehm, con la tua aiella. E faccia tutti i bagaggi con i quarzi, le candele. No, no, tu non lo fai così. Tu lo fai stando lì e basta. Cioè, non è che tu devi fare qualcosa per portare sfiga. Porti sfiga in quanto lì. Cioè, tu stai lì... No, dai, ma così è bruttissimo. Non posso controllarlo. Se tipo c'è qualche vecchio... Qualche donna uomo sposato a un vecchio ereditiero, no? Tipo uno che ha un sacco di soldi e quello vuole che muoia, no? Per ereditare tutto. Allora ti chiamano. Tu ti appollai dietro il letto del vecchio e inizi a stare lì, no? Così e lo guardi così. No, dai, ma così è bruttissimo. Così con quel tuo sguardo da iettatore maledetto. Così tu stai lì, capito? Stai lì. Tempo, tre, quattro giorni. A quello gli prende un coccolone e muore. No, no, dai, vi prego.